L'ultimo verbale del tavolo di monitoraggio sulla sanità in Abruzzo, rilasciato dai Ministeri di Economia e Salute lo scorso 15 novembre, reso pubblico solo nei giorni scorsi. Evidenzia, hanno in situazione disastrosa 44 pagine in cui i tecnici del Ministero bacchettano la Regione su molteplici aspetti, ma soprattutto gettano ombre su una serie di buone intenzioni senza alcun tipo di riscontro da parte del Governo regionale uscente di centro-sinistra. Tra queste il capitolo relativo al punto nascite di Sulmona, allo stato attuale verso un'inesorabile chiusura, ma solo perché spiegano i consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Mauro Febo, affiancati stamani in conferenza stampa dal neoconsigliere Umberto De Annuntis e dal coordinatore regionale Nazario Pagano, i documenti richiesti dopo la concessione di una proroga legata al cratere sismico sull'opportunità di tenere aperto il presidio non sono mai arrivati. E' venuto il Ministro a dirci che lo lasciava aperto, il verbale dice tutt'altra cosa, ma dice tutt'altra cosa perché comunque le carte non gli sono state date, quindi anziché perdersi in chiacchiere e promesse avrebbero dovuto spiegare perché Sulmona deve rimanere aperto. Il Ministro ce l'ha promesso, lo chiederemo con forza che mandenga questo impegno. Ma il verbale pone una lunga serie di questioni, nessuna modifica organica, buoni intenti senza alcun tipo di riscontro, un'organizzazione ospedaliera che non corrisponde ai dettami del Ministero, una rete emergenza urgenza che dovrebbe essere fissata entro 18 minuti di tempo di pendenza e che in Abruzzo invece è ancora superiore ai 21 minuti. E questo è un motivo per cui noi chiediamo una revisione della rete ospedaliera perché non si può fare una mappa su Google senza tener conto delle nostre strade, di come è la nostra geografia della regione Abruzzo. E poi la mobilità passiva che il Ministero fissa sul tetto dell'8,3% in Abruzzo sfonda al 15% con una perdita di oltre 100 milioni che i pazienti abruzzesi vanno a spendere fuori regione per farsi curare. Intanto il tavolo di monitoraggio aveva chiesto delucidazioni entro il 15 gennaio, ma con le elezioni alle porte, dicono ancora i consiglieri regionali di Forza Italia, la regione si è ben guardata da rispondere. Con il risultato che i fondi per la premialità del 2017 restano bloccati. Ciò che non si è bloccato, denuncia invece Lorenzo Sospiri. Questa fucina, fabbrica di incarichi, di concessione di strutture semplici, dipartimentali, di concorsi di qua di là perché non io ma i Ministeri dell'Economia e della Salute hanno comunicato alla regione dal 15 novembre però, e quindi loro ne sono a conoscenza, che gli atti aziendali, cioè gli strumenti con cui loro organizzano la sanità delle varie asle abruzzesi e dei presidi ospedalieri sono fallaci. Li invito a fermarsi. Le elezioni sono finite, la campagna elettorale è finita, ha vinto il centro-destra, ha il diritto di governare questa regione, di risolvere i problemi che troviamo, non aggraviamo il monte dei problemi già notevoli che troviamo nell'ambito sanitario.